Artigianato o commercio? E' tra questi due comparti che si gioca la partita per la conquista della vicepresidenza della Camera di Commercio di Salerno. Il giorno dopo l'elezione alla guida dell'ente di via Roma di Andrea Prete, la convergenza raggiunta sul nome del presidente è al momento un miraggio per l'elezione del suo vice che avverrà nella seduta dell'11 settembre alle 14.30. Il neopresidente però si è già messo al lavoro ed il sogno sarebbe arrivare alla scelta degli otto componenti di giunta e del vice per acclamazione così come è avvenuto ieri per la scelta del presidente. Ma mentre il comparto dell'industria ha già deciso l'unico posto sarebbe stato assegnato all'attuale presidente di Confindustria Salerno Mauro Maccauro e sembrano definitivi i posti nel settore del commercio per il quale entrerebbero a far parte della giunta Mariano Lazzarini per la Confcommercio, Aldo Trezza per la Confesercenti e Mario Arciolo per la Cidec, restano ancora da chiarire i rappresentanti di agricoltura e artigianato. Le maggiori divisioni riguardano proprio quest'ultimo comparto che è anche quello al quale, secondo un percorso già delineato, spetterebbe la vicepresidenza. Sergio Casola, presidente provinciale della sigla più corposa in termini di associati, la CNA, non solo rivendica il suo diritto di far parte dell'aggiunta ma ha anche legittime aspirazioni ad essere scelto come vicepresidente, aspirazione però condivisa con quasi tutti i rappresentanti del suo comparto. In particolare Casola, controparte dell'artigianato di quella fronda vicina a Peppe Gallo, presidente della Confartigianato, che ha dovuto fare un passo indietro mentre sembrava cosa fatta la sua elezione alla presidenza davanti alle sollecitazioni giunte anche dalla regione Campania, che aveva chiesto responsabilmente al Consiglio Camerale di creare una filiera istituzionale portando sullo scranno più alto dell'ente di Via Roma, un nome amico al governatore De Luca. Le divisioni all'interno dell'artigianato ora potrebbero favorire il commercio. Ogni consigliere può esprimere due preferenze. Fatta obbligo l'elezione di un rappresentante per quattro comparti, agricoltura, artigianato, commercio e industria, in giunta entrerebbero i secondi quattro più votati. Tra gli olto verrà poi scelto il vice.